Gela, la direzione investigativa antimafia, confisca beni e quote societarie per 4 milioni di euro a un commercialista. Favara, denunciata una trentenne accusata di aver ferito la madre, intervento dei carabinieri, sequestrato un coltello. Caltanissetta, consiglio comunale, polemica sulla mozione lotta alla droga, parla Oscar Aiello della Lega, replica di Marina Mancuso del Movimento 5 Stelle. Denunciato un giovane già gravato dal divieto di accedere alle manifestazioni sportive, sorpreso al Palmintelli durante Nissa Mazzarese. Villa Cembalo, intervento di orgoglio nisseno per sapere quando si realizzerà il progetto del centro per donne e bambini in difficoltà. Stadio Tomaselli, i cittadini chiedono la riapertura dell'impianto sportivo. Un noto commercialista e consulente fiscale di Gela è finito nel mirino della direzione investigativa antimafia. Gli inquirenti, infatti, hanno dato esecuzione a un decreto di confisca definitiva emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta, su proposta della Procura della Repubblica di Gela. Il professionista è risultato gravato da pendenti penali per gravi illeciti fiscali commessi in passato. Nel 2010, di fatto, il commercialista è stato condannato a due anni e un mese di reclusione, nell'ambito di un'indagine della Procura di Brescia per associazione a delinquere, truffe ai danni dello Stato e indebite e compensazioni tributarie. L'odierno provvedimento è il risultato di una meticolosa attività investigativa della DIA risalente al 2009, che ha consentito di riscontrare la pericolosità sociale del soggetto. Profilo riscontrato anche dalle indagini patrimoniali, che avrebbero fatto emergere la sproporzione fra il suo elevato tenore di vita, i redditi dichiarati e i conseguenti investimenti fatti. La confisca, il cui valore complessivo supererebbe i 4 milioni di euro, ha interessato una lussuosa struttura agrovenatoria a Piazza Armerina, costituita da una riserva di caccia di 30 ettari, un salone e ristorante e 7 residenze frutto del restauro di caseggiati dell'Ottocento, 74 beni immobili, fra cui fabbricate e terreni, quote societari in due società di gela, autoveicoli e rapporti bancari. I carabinieri stanno eseguendo 7 misure cautelari nei confronti di altrettante persone che avrebbero spacciato stupefacenti all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento a Stefano Zammuto, su richiesta del procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella. Per due indagati, un quarantenne e un cinquantenne originario di Agrigento, è stata disposta la custodia catelare in carcere. Per altri due, un ventiquattrenne originario di Agrigento e un quarantasettenne di Palermo, è stato disposto l'obbligo di dimora ad Agrigento. Per altri due indagati, invece, un quarantenne di Favara e un altro originario della Germania, è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Agrigento. E infine, per un sessantenne di Favara, è stato disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L'indagine è stata avviata nel novembre del 2020, dopo diverse segnalazioni, tra cui quella di una donna, ospite della struttura, che aveva denunciato, secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica di Agrigento, di aver subito minacce e violenze sessuali reiterate, come corrispettivo nella compravendita della sostanza stupefacente. Grazie alle intercettazioni telefoniche e alle riprese video, è stato possibile riscontrare quello che gli inquirenti hanno definito una struttura piazza di spaccio. Una giovane di 32 anni di Canicattì è stata denunciata alla Procura della Repubblica per lesioni personali e minacce aggravata. A procedere, dopo una breve attività di indagine, sono stati carabinieri della Compagnia del Comune in provincia di Agrigento. La ragazza avrebbe minacciato, aggredito e sferrato una coltellata alla madre. La donna ferita, una 53enne, è finita al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo, dove i sanitari le hanno diagnosticato una ferita lacero contusa alla mano destra, escoriazioni sparse, un tramo al ginocchio destro e l'avulsione parziale di un dente. Alla donna, inoltre, sono stati dati 15 giorni, salvo complicazioni, per guarire. Anche la figlia è finita in ospedale, dove le sono state riscontrate escoriazioni sulla schiena e ad un braccio. Tre, invece, i giorni di prognosi che gli sono stati dati dai medici. I militari dell'arma sono riusciti, infine, a recuperare e sequestrare il coltello da cucina con lama da 24 centimetri, con cui la giovane avrebbe colpito la madre. Con il Consiglio Comunale di ieri, il capogruppo della Lega, Oscar Aiello, avrebbe presentato una mozione sulla lotta alla droga attraverso l'assegnazione ad un consigliere comunale di maggioranza e un consigliere comunale di opposizione di una specifica delega nella lotta alla droga con l'incarico di promuovere e coordinare l'azione del Comune sulla materia e sull'istituzione di un osservatorio sul tema. Quello che è successo è davvero imbarazzante. La Lega, con me, primo firmatario, aveva presentato una mozione avente ad oggetto la lotta alla droga, quindi un tema trasversale che dovrebbe unire la politica anziché dividerla. Invece, il Movimento 5 Stelle ha pensato bene di bocciare di fatto la mozione. La mozione aveva ad oggetto soltanto attribuire ad un consigliere di maggioranza e uno d'opposizione, la delega, per promuovere e coordinare tutte quelle attività che potrebbero servire a contrastare la droga coinvolgendo gli specialisti, quindi medici, esperti, quali psicologi e le forze armate. E poi altro obiettivo era quello di istituire un osservatorio comunale. Il Movimento 5 Stelle ha votato contrario, dividendo il Consiglio Comunale, portando avanti forse la loro ideologia piuttosto che una politica irresponsabile. Io ho definito purtroppo i consiglieri del Movimento 5 Stelle politicamente irresponsabili, anche perché la mozione non aveva nessun costo per l'amministrazione comunale che ieri anti era favorevole. È Marino Mancuso del Movimento 5 Stelle a spiegare il perché della scelta dell'astenzione che ha comportato la bocciatura della mozione. Dice in una nota, constatiamo con amarezza l'indisponibilità del consigliere di opposizione autore della mozione in trattazione al Consiglio Comunale del 18 ottobre di modificare la mozione in termini condivisi e condivisibili all'interno del Consiglio, in modo da arrivare ad una approvazione all'unanimità. La mozione, prosegue, vertieva su una materia delicata e di grande attualità, la prevenzione e la lotta alla droga. Il Movimento 5 Stelle ha mostrato piena disponibilità ad un confronto chiedendo una sospensione dei lavori a cui il consigliere proponente si è sottratto dimostrando una totale chiusura. Prosegue ancora. Riteniamo che i consiglieri non abbiano alcuna competenza per coordinare un'attività svolta dal CERT, dagli organi di polizia, dalla prefettura e dai servizi sociali. Sarebbe stato un istituto poco realizzabile in concreto, sottolinea, posto il diverso livello istituzionale dei soggetti, di cui si sarebbe voluto assumere il coordinamento. In una materia così complessa e delicata si correva il rischio di fare solo del protagonismo. Fa bene solo chi sa fare. Conclude in questo modo la consigliera. Un 33enne di Caltanissetta è stato denunciato dalla polizia per essere stato trovato allo stadio fra gli spettatori, nonostante fosse sottoposto a Daspo. L'uomo era stato raggiunto dalla misura di prevenzione nel gennaio del 2020, con un provvedimento emesso dal questore del comune di Caltanissetta. Così il 33enne è stato denunciato dalla Digos alla locale Procura della Repubblica, per violazione del divieto di accedere nei luoghi dove si svolgono competizioni sportive. L'uomo era stato sottoposto alla misura di prevenzione del Daspo per tre anni e emessa nel gennaio del 2020 dal questore del comune nisseno. Nel corso dell'incontro di calcio Nissa-Mazzarese, però, disputato domenica pomeriggio al campo sportivo Palmitelli di Caltanissetta, l'uomo, contravvenendo al divieto, è stato notato dagli agenti della Polizia di Stato all'interno dello stadio fra gli spettatori. Così è scattata tempestivamente la denuncia a suo carico presso la Procura della Repubblica. È passato un anno dalla donazione della Villa Cembolo da parte della famiglia, che con grande generosità ed altruismo, si legge in un comunicato di orgoglio nisseno, donava la sua bella villa di Via Due Fontane alla Croce Rossa italiana, affinché potesse realizzarsi un centro per donne e bambini in difficoltà. L'importante organizzazione di volontariato, si legge ancora, nel ritenere l'iniziativa della famiglia Cembolo, lodevole di grande utilità per la città di Caltanissetta, si impegnava ad adeguare nel più breve tempo possibile l'immobile alla nuova destinazione sociale. E così il movimento politico pone dei quesiti. Chiediamo a che punto sia nei lavori di adeguamento della Villa Cembolo e quando si prevede possa realizzarsi l'ambizioso progetto del centro per donne e bambini in difficoltà. La struttura denominata Villa Cembolo è attualmente in fase di adeguamento strutturale e tecnico, ci fanno sapere dal Comitato Nisseno della Croce Rossa italiana. I lavori sarebbero necessari dunque per realizzare il centro destinato a donne e bambini in difficoltà. E sulle tempistiche, precisano ancora, si stanno prolungando a causa dell'innalzamento dei costi dei materiali. La struttura Saroggetto concludono di progettualità solidaristica appena conforme alle vigenti normative in materia. Continua a non vedere una fine la questione dello stadio Tomaselli. Il braccio di ferro tra federazioni, squadre e amministrazione è continuo e si spera che a breve si possa trovare una soluzione. Nel frattempo anche altri sportivi come i podisti si sentono esclusi dalla questione perché non possono utilizzare la pista di atletica. La pista di atletica non si può usare perché ancora ci sono dei lavori che non so quanto tempo dureranno, ma hanno speso un sacco di soldi e speravo che fosse risolutiva tutti i lavori che sono stati effettuati dentro lo stadio. È ovvio che non possiamo che subirla questa cosa perché non c'è un'alternativa, noi non possiamo fare niente, possiamo solo appellarci in questo caso anche alle radio, alle televisioni che ci potrebbero dare una mano. Siamo abbastanza amareggiati per quello che sta succedendo perché non sono solamente il rugby, il calcio ma anche quella dell'atletica che siamo penalizzati perché non ci possiamo allenare dentro il campo la sera dove è illuminato e siamo più tranquilli al di fuori del campo che ci sono le macchine che scorrazzano ed è molto pericoloso. E c'è anche chi va oltre il problema stadio. Questa dovrebbe essere una zona sicuramente mantenuta meglio, numero uno perché per arrivare qua lo sapete la strada è sempre piena, stretta e trafficata quindi bisognerebbe fare innanzitutto una ciclabile che parta da via Rochester e che scenda fino a qua. Dopodiché mantenere questo campo per esempio sempre aperto, pulito, fruibile e via dicendo. Non si ferma il lavoro dell'amministrazione comunale Gianvilippo Bancheri a Delia. Dopo aver ottenuto un gospicco finanziamento di 700 mila euro nei giorni scorsi per la manutenzione del campo sportivo comunale Carvello, adesso nella cittadina nissena partiranno dei lavori di riqualificazione dell'ambiteatro di via Alessandro Pertini. Un posto che dovrebbe essere di assoluto relax per i cittadini e che dunque ha bisogno di una seria manutenzione per renderlo maggiormente decoroso e fruibile. L'intervento è stato concordato con l'ufficio comunale competente e dovrebbe riguardare la rimozione di zone pericolanti e delle palme ormai morte a causa del punterolo rosso, ma anche la sistemazione di vialetti distrutti dall'inciviltà di qualche frequentatore. Ci dice qualcosa in più lo stesso primo cittadino di Delia, Gianvilippo Bancheri, intervistato ai nostri microfoni nella giornata di oggi. Stiamo facendo alcuni lavori in economia per la riqualificazione dell'ambiteatro di via Alessandro Pertini. Si sta cercando di rendere questo spazio maggiormente decoroso perché è uno spazio che è frequentato soprattutto nelle ore serali dai giovani e quindi in economia con l'ufficio tecnico abbiamo fatto un progettino che permetterà di renderlo maggiormente decoroso e successivamente oltre a questi lavori faremo nello stesso spazio, metteremo e collocaremo nello stesso spazio alcune panche, provvederemo a illuminarlo e quindi andremo a rendere maggiormente attrattiva questa zona. La missione dell'amministrazione popolare è quella che oltre a intercettare tutti i finanziamenti che ci vedono al primo posto in proporzione agli abitanti in tutta la Sicilia è quello appunto come dicevo di rendere maggiormente decoroso e bello sia il ciclo storico che gli spazi aggregativi. Stiamo facendo tutto questo come stiamo facendo nel centro storico anche la riqualificazione dei cortili. È una programmazione amministrativa che ci vede impegnati in tempo reale insieme agli uffici perché la nostra missione è quella di rendere sempre più orgogliosi digitali in Italia dell'ambiente nel quale vivono. Amici di Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che ancora vedrà un'area di alta pressione posizionata sul Mediterraneo e sul nostro paese quindi ancora condizioni meteorologiche più da fine estate che da autunno però si preparano dei sistemi nuvolosi sull'Europa occidentale che poi verso venerdì si avvicineranno al nord Italia. Ma vediamo per la giornata di mercoledì la previsione della nuvolosità con ben poco da segnalare. Come vi dicevo sarà una giornata di bel tempo. Qualche annuvolamento si fa vedere sul basso Tirene nel Salento ma senza grandi conseguenze. Precipitazioni praticamente del tutto assente effettivamente senza nuvole come può piovere quindi ripeto situazione tranquilla ci attende un mercoledì soleggiato in tutta Italia. Attenzione un po' di foschia, qualche banco di nebbia al primo mattino in pianura padane nelle valli interne del centro ma per il resto tanto sole, temperature localmente anche oltre i 25 gradi. Per sapere cosa accadrà poi anche nelle giornate successive consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, Croce Verde, Viale della Regione. Servizio notturno, San Pio X, Via Napoleone Colaianni.